Il Dipartimento di Stato cerca un agente specializzato nel contrastare l'escalation dei cartelli della droga. Prima volta al confine? Andiamo a El Paso, giusto? Probabilmente niente ha senso ai tuoi occhi americani, ma alla fine riuscirai a capire. Vettura Palo, corsia sinistra. Vettura Palo, a ore 9. Non sono un soldato, non faccio queste cose. Questo è quello che succede quando si fa sul serio, è chiaro? Hai visto cose che non dovevi vedere? Lui lavora per i nostri rivali. Stabilisce un ordine che noi siamo in grado di controllare. Dirò a tutti quello che lei ha fatto. Sarebbe un errore imperdonabile.